Allora, ho trovato lo studio tramite internet e poi comunque prima di venire qua in Croazia ho chiesto a amici e conoscenti se avevano dei contatti in Croazia e mi hanno consigliato vari studi. Poi ho chiamato qua a Marpinko tramite anche vedendo Facebook e devo dire che la segretaria mi ha coinvolto molto in questo progetto e mi sono convinto di venire qua e devo dire che non me ne sono pentito perché la prima volta sono venuta a metà novembre, mi hanno fatto gli impianti e in due giorni ho fatto tutto. Non dovevo fare tantissimo rispetto a altre problematiche di altri miei amici che sono venuti qua. Poi dopo ci siamo organizzati e sono venuta verso a fine marzo e in cinque giorni perché sono arrivato domenica da lunedì fino a venerdì mi hanno sistemato delle carie, fatto delle devitalizzazioni, pulizie e tutto e poi dopo calchi su calchi. Ma veramente non è mancato mai niente, anche l'affetto delle dottoresse, dei colleghi, anche di chi è venuta a prendermi all'aeroporto perché contiamo che vengono attreviso e ci portano fino a Zagabria, assistenza su tutto, devo dire che sono stati bravissimi su tutto. Grazie ancora allo studio Martinco e a tutti quanti. Grazie mille, spero di non dover ritornare, però se dovessi tornare, tornerei sicuramente qua e porterei altra gente. Comunque il passaparola c'è già stato e stanno aspettando tutti che sono in Italia per fare pubblicità. Ottimo, ti ringrazio.